Questo è lo stesso articolo che abbiamo appena visto, così come compare invece sul libro di Giovanni Birindelli, Legge e Mercato, un libro bellissimo. Così come riportato nel libro, l'articolo è leggermente diverso da quello che compare sul sito, che è questo che abbiamo letto insieme. C'è per esempio la nota che dicevo sull'asseffaire, cioè che durante l'asseffaire ci fu una proliferazione straordinaria di organizzazioni e istituzioni filantropiche. Quindi io consiglio la lettura anche del libro di Birindelli, dell'articolo così come compare sul libro, potete leggerlo qui facendo pausa. Questa è la parte centrale dell'articolo e queste sono le righe finali.